Voglio iniziare dalla fine, da quella che solitamente è una sorta di conclusione all'interno dei video pre-partita. Oggi non voglio fare tanta tattica, pretattica o robe del genere, voglio semplicemente andare dritto ai punti che vanno toccati. Le probabili formazioni. Per la Juventus, 3-5-2, confermato, con Perin in porta, Danilo, Bremer e Gatti a comporre la linea difensiva, McKennie esterno di destra, Eling Junior esterno di sinistra favorito su Costice al momento, Nicolussi Caviglia davanti alla difesa, Rabiot mezzala sinistra, Cambiaso mezzala destra, Chiese Vlaovic in attacco. Questa dovrebbe essere la Juventus, quindi con McKennie e Eling esterni, con Cambiaso e Rabiot mezzali, Nicolussi Caviglia davanti alla difesa. Il centrocampo titolare composto da Rabiot, McKennie e Locatelli, quello che solitamente vedevamo come mediana A3, è un po' mischiata, anche se McKennie spesso e volentieri abbiamo visto largo con Cambiaso che stringe verso il centro. Centrocampo molto molto strano, Rabiot Nicolussi Cambiaso, vediamo che cosa succederà davanti e dietro, invece le scelte erano abbastanza scontate, Perin il portiere di Coppa e Eling, boh, strano, veramente strano vedere Eling. Su Nicolussi, io credo che Nicolussi sia la scelta giusta, perché si era parato anche di Miretti davanti alla difesa, io credo che Nicolussi sia la scelta giusta. È un giocatore che quando è stato chiamato in causa, secondo me, ha fatto vedere delle cose discrete, poi è ovvio che ha giocato veramente troppo poco, mi pare che non superi nemmeno i 300 minuti in stagione. L'ultima volta che l'abbiamo visto in campo era proprio contro l'Atalanta, in campionato, quindi stiamo parlando di oltre due mesi fa, praticamente il 10 di marzo, se non ricordo male, e poi non è mai più stato riproposto, quindi ci arriva con un ritmo partita che non esiste, arriva con un ritmo allenamento, e dato che sapevamo da tempo che Locatelli non avrebbe giocato questa partita, secondo me questo è stato un piccolo errore di valutazione. Vedremo forza ragazzi, veramente poi arriveremo a parlare nel dettaglio di quella che sarà la mia richiesta ai calciatori della Juventus, che andranno a sfidare l'Atalanta con Carnesecchi in porta, Team City, Yen e Scalvini in difesa, Zappacosta e Ruggeri sugli esterni, Deron e Ederson in mediana, in cabina di regia, Pasalic e Kovmeiners alle spalle di De Ketelare, unica punta, prima punta. Quindi si tiene tanti giocatori offensivi che possono cambiare il volto dell'Atalanta in panchina, Gasperini, perché oltre a Ture e Mirancuc c'è anche Lukman, che è un giocatore molto molto pericoloso. Poi ci sono ovviamente alcuni ballottaggi sia per la Juve sia per l'Atalanta, mentre vi parlo questa dovrebbe essere la formazione che Gasperini e Allegri hanno pensato. Sono molto negativo, ve lo dico, sono molto negativo, e non negativo nella serie perdiamo la partita, negativo nella serie facciamo una brutta figura, cioè io temo veramente che la Juve oggi possa fare una brutta figura, una figura di quelle che ti ricordi per tanto tanto tempo in una finale. Io ho già fatto tutti i discorsi possibili legati all'incastro, Allegri, Gasperini, quello che non ha mai vinto, quello che ha vinto tanto, quello che ha una filosofia, quello che non è un'altra. Adesso basta, adesso invece bisogna andare in campo concretamente, bisogna mettere in campo tutto noi stessi. Una richiesta vi faccio, una sola. Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus, ce la mettiamo via, l'abbiamo capita e basta, via, mettiamola via sta cosa qui. I calciatori però rimarranno, non tutti ma molti, e tanti di questi calciatori sono in bilico, sono in bilico e devono guadagnarsi il futuro alla Juventus. E allora io stasera una sola richiesta, so come ci arriviamo, noi morti e loro al top, sono quasi nel loro prime, una roba del genere. Ottimo, perfetto, lo sappiamo, lo abbiamo capito, ma in campo l'atteggiamento deve essere quello giusto. Io chiedo solo questo ai calciatori della Juventus, se si può perdere, si può sbagliare, i passaggi, i tiri, quello che volete, ma l'atteggiamento deve essere giusto. Non stiamo andando a fare una gita a Roma, non siamo in passeggiata a Roma, quindi Allegri lo lasciamo da parte in questo discorso, abbiamo già capito, verrà fatto fuori. Ok, ma i calciatori che devono guadagnarsi il futuro, questo non può assolutamente passare inosservato. Quindi forza ragazzi, vi prego, vi scongiuro, almeno l'atteggiamento per salvare la faccia, perché io stasera ho veramente paura di fare una figuraccia. Ci sono alcune considerazioni, ieri vi ho parlato del fatto che, ha una domanda scomoda perché era quella del come valuteresti la stagione in caso di Coppa Italia, Danilo se ne sia uscito con una buona riflessione legata al fatto che si doveva fare di più, si poteva fare meglio, ma almeno sono arrivati in Champions, e questo permetterà poi alla società di fare dei ragionamenti in vista del futuro in maniera più ambiziosa, e quindi mi era piaciuta quella lettura di Danilo nel non voler valutare la stagione come gloriosa roba del genere. Ad Allegri è stata fatta una domanda fuori dalla conferenza stampa da parte di Gianni Balsarini, che tra l'altro saluto, e Balsarini chiedeva ad Allegri e sarebbe importante concludere ipoteticamente questa avventura l'Aventus con un trofeo, e Allegri avrebbe risposto che non è importante tanto il trofeo quanto è importante aver portato un tesoretto alla società. Ora, io credo che questo sia tutto tranne che un discorso sportivo, perché se l'allenatore si mette a parlare di soldi, allora deve mettere tutto all'interno del calderone, perché i soldi non vanno in campo, i soldi non vanno in campo, non è una roba sportiva, i soldi non gioca alle partite, i soldi sono una conseguenza delle stagioni, però allora se si parla di soldi bisogna anche capire i costi di gestione che hanno permesso di raggiungere quegli obiettivi. È la Juventus la squadra più pagata in Serie A al pari dell'Inter, mi sembra che i Juventus e l'Inter abbiano avuto gli stessi percorsi che possano essere paragonati dal punto di vista sportivo? No, le vogliamo paragonare dal punto di vista economico? Allora poi è un altro discorso, quello è un discorso dirigenziale, è un discorso societario, non un discorso di campo che non deve fare l'allenatore e non può fare l'allenatore perché se l'allenatore dice che il trofeo non è importante ma è importante lasciare un tesoretto significa che si sta spostando l'attenzione sportiva e si sta portando su un piano economico, ma allora se si parla di piano economico bisogna mettere in costo in preventivo anche i costi di gestione, tra cui lo stipendio dell'allenatore che è il più pagato in Serie A se si vuole parlare di soldi. Dato che si vorrebbe parlare di sport e questa sera di una coppa della possibilità di vincere una coppa lascerei da parte i discorsi sportivi eviterei di parlare di tesoretto come se fosse stato conquistato un traguardo di quelli incredibili anche perché al Mondiale ci siamo qualificati dovendo sperare che uscissero quegli altri. Alla Champions abbiamo fatto un ottimo giorno d'andata, il giorno di ritorno è stato disastroso, meno male che dietro sono scivolati tutti come quel pattinatore alle Olimpiadi non mi ricordo neanche come si chiamava. Cioè bisogna anche avere un minimo di onestà intellettuale e di amor proprio e di rispetto anche nei confronti dei tifosi perché queste cose mi fanno veramente girare nel giorno della partita a maggior ragione che dovrebbe esserci soltanto un argomento di discussione cioè la finale di Coppa Italia, le formazioni, lo Stato, invece siamo qui a dirci mamma mia come ci arriviamo male queste robe qui. No però, noi abbiamo lasciato il tesoretto. Queste cose non esistono, queste cose non le condivido assolutamente. C'è una piccola, piccolissima speranza di salvezza per la Juventus. La possibilità di portarsi a casa un trofeo c'è, di vincere questa sera la Coppa Italia c'è e sapete perché? Perché Gasperini e Scamacca in conferenza stampa per partita hanno toccato, guardato e addirittura ha carezzato la Coppa Italia. Ecco, non si deve fare. È una legge non scritta del calcio, non si deve assolutamente fare. quindi se io sono qui proprio preoccupatissimo di quella che potrebbe essere la figura stasera della Juventus vi dico che quella roba guardate ve lo dico seriamente ve lo dico seriamente perché per quanto io sia pragmatico oggettivo cerchi di rimanere quei piedi per terra quella è una roba che faccio fatica a tirar fuori faccio veramente fatica se ieri Allegri e Danilo avessero toccato guardato ha carezzato la Coppa sarei impazzito impazzito perché poi il calcio è bello anche per queste cose qui ci trasforma da fare delle analisi lucide e pacate ad attaccarci ad aggrapparci a queste cose scaramantiche lo sappiamo bene tutti i calciatori ce ne hanno parlato anche tanti calciatori del passato ritti scaramantici eccetera eccetera ce ne sono tantissimi anche nel Milan che vincevano le Champions giocatori che devono fare determinate cose prima quindi se c'è una piccola speranza è legata soltanto al fatto che ieri Gasperini e Scamacca hanno guardato toccato e accarezzato la Coppa Italia basterà questo sarà sufficiente questo ovviamente no però sarebbe bello sarebbe bello cercare di di confermare questo tabù se riusciranno pure a spezzare questo tabù nella storia del calcio allora io non so più che cosa fare non so più che cosa dire mi arrendo semplicemente dinnanzi alla superiorità dell'Atalanta ragazzi questi erano i concetti principali che volevo cercare di passare nella giornata di oggi sono preoccupato molto preoccupato anche perché ieri Allegri mi ha dato la sensazione di di essere un po' arrendevole questo discorso anche legato al tesoretto piuttosto che al trofeo che tra l'altro ricalca la perfezione la prima pagina del Corriere dello Sport di Zazzaroni vabbè pensare male a volte si fa peccato però forse ci si azzecca pure non vorrei mai immaginare che la Juventus sia andata lì perché doveva andare lì la tensione della Champions se n'è andata dovrebbero essere anche un po' più leggeri liberi di giocare una coppa anche perché davvero oggi siamo gli sfavoriti il favore del pronostico non è roba nostra so che è strano in una finale di Coppa Italia contro l'Atalanta ma è così quindi in teoria non abbiamo niente da perdere ma tutto da guadagnarci dipende tutto da noi si parte da 0 a 0 e si può fare si può fare ma sarà molto 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 complicata non sono qui a volervi vendere a gettare fumo negli occhi ciao a tutti ragazzi forza Juventus vedremo stasera mamma mia